pace cari pace buona giornata dio vi benedica a tutti quanti oggi è 24 agosto sono le 7 del mattino continuiamo a leggere dal capitolo 4 del libro di jonathan gofford per lo spirito mio capitolo che si intitola i trionfi della fede l'altro ieri abbiamo concluso la lettura presentando la testimonianza di quella ragazza circa 20 anni che due mesi prima di lasciare questa terra a causa di un male incurabile aveva confessato il proprio peccato ed era stata salvata dal signore il tutto era avvenuto nella città di chinchou e il pastore walter phillis che era presente a due delle riunioni scrive è stato a chinchou che sono venuto in contatto per la prima volta con il risveglio c'era già stata una settimana di riunioni al mio arrivo quindi sono stato introdotto al cuore delle cose impreparato e sinceramente con un forte pregiudizio nei confronti delle isterie da risveglio di ogni genere e quindi il mio è quantomeno un resoconto imparziale sin da subito scrive walter phillis entrando nella chiesa si era consci di qualcosa di insolito il luogo era cremito fino alla porta d'ingresso e c'era un'aria riverente carica di tensione il canto vibrava di gioia e vigore le persone si inginocchiavano per pregare in un primo momento in silenzio presto poi uno qui e un altro lì cominciavano ad elevare la loro voce le voci crescevano il volume aumentava fino a che si unirono in una grande ondata di supplica all'unisono che si gonfiò fino a diventare come un boato finendo nuovamente in un pianto sommesso ora capivo perché il pavimento era così bagnato era pieno di lacrime sembrava che l'aria stesse che l'aria stessa fosse elettrizzata e strani brividi percorrevano su e giù per il corpo poi sopra i singhiozzi in tono teso e soffocato un uomo cominciò a elevare a dio una preghiera struggente egli riconosceva le sue colpe e invocava la grazia del signore le mie parole scrive walter phillis non renderanno ragione nel descrivere il timore il tremore e la pietà di queste invocazioni non era tanto la l'enormità dei peccati di cui si invocava il perdono o la profondità dell'iniquità toccata che mi scioccarono era piuttosto l'angoscia del penitente i suoi gemiti le sue grida la sua voce rotta dal singhiozzo era la vista di uomini che si sforzavano di stare in piedi e che nonostante i loro combattimenti erano spinti a mettere a nudo i propri sentimenti e la loro sincera commozione che faceva grondare i loro occhi di lacrime brucianti non ho mai assistito a qualcosa di più appassionato e sfiancante dello spettacolo di quelle anime che gridavano letteralmente a dio andò avanti così per ore finché la tensione non fosse quasi più di quanto lo spettatore potesse sopportare vi era un grosso e forte contadino prostrato sul pavimento che battendo la testa sulle assi nude mentre gemeva incessantemente continuava a dire signore signore poi una donna pelle ossa con la voce fievole come un sussurro poi un ragazzino della scuola con le lacrime che gli striavano il piccolo visino sporco che si inghiozzava la settimana scorsa diceva mentre confessava il suo peccato ho rubato un soldo al mio maestro sto sempre a litigare a bestemmiare supplico il pastore gli anziani e i diaconi di pregare per me ed ecco levarsi di nuovo quel meraviglioso suono di preghiera con corde e unanime e come quel tono calò di nuovo l'orecchio corse un basso sottofondo di pianto silenzioso di supplica di uomini e donne che incurante di ciò che circondavano lottavano per avere la pace mi voglio soffermare per qualche attimo su quello che abbiamo appena letto forse come diceva anche il pastore walter phillis alcuni potrebbero essere spinti a pensare che si tratta di forme di isteria dovute a una grande emotività e sicuramente l'aspetto emotivo ha una sua un suo ruolo ma non è l'emozione è proprio la presenza dello spirito di dio che spingeva queste persone a invocare il signore e il tutto è testimoniato dalle vite che sono state cambiate trasformate oggi viviamo in un tempo in cui spesso il vangelo visto come una sorta di palliativo alle sofferenze dovute ai problemi della vita e certamente il signore è colui che consola i cuori è colui che dà forza agli stanchi è colui che rialza quanti sono caduti ma tutto questo è una conseguenza del rapporto di comunione e di intimità e questo rapporto nasce si sviluppa allora quando l'uomo ha fatto pace con dio quando l'uomo si è riconciliato col signore e affinché questo sia possibile è necessario che i peccati anche quelli nascosti vengono confessati è necessario chiedere che il proprio carattere burbero o spigoloso scontroso orgoglioso possa essere trasformato dalla grazia di dio non è vero che il signore non cambia il carattere non è vero che una persona deve rimanere sempre allo stesso modo dio ha sempre trasformato la vita delle persone ma non in modo apparente in modo reale profondo qui non si tratta di assumere degli atteggiamenti o dei comportamenti di umiltà qui si tratta di diventare veramente umili qui non si tratta di sforzarsi di essere persone che concedono perdono e che si mostrano amorevole e compassionevoli qui si tratta di diventare persone che hanno amore e che hanno compassione per le anime perdute che sono pronte a praticare la vita di cristo questo è possibile solo se il signore entra nel cuore e questo è realizzabile solo se il peccato viene confessato la croce è qualcosa dal quale si deve passare se si vuole vedere la propria vita cambiata e rigenerata e forse tu che stai combattendo col tuo carattere e con i tuoi pensieri non hai ancora capito che ciò che devi fare andare al signore confessare la tua condizione e chiedere a lui di cambiarti la tua vita sarà una vita nuova una vita diversa una vita trasformata e anche tu potrai dire il signore è il mio pastore nulla mi manca che la grazia di dio la sua pace la sua mano possa essere stessa su di noi ancora oggi pace cari dio ci benedica insieme